Inaugurata e resa accessibile la nuova strada provinciale che porta al Santuario della Verna. È un lavoro importante che era nella mente dei frati della Verna da molto tempo, a rendere accessibile il più possibile anche per i non deambulanti questo santuario, che è anche un luogo di consolazione e quindi frequentato anche dagli ammalati. Già il santuario e la foresteria erano adeguati, ma proprio lo spazio per arrivare era faticoso. Il manto stradale è stato completamente rinnovato e messo in sicurezza. Si trovava in uno stato degradato a causa delle condizioni climatiche e delle frequenti nevicate. Il passaggio continuo di auto e mezzi pesanti poi avevano fatto il resto. Adesso la strada è completamente rinnovata. È stato un primo intervento di lavori di circa 160.000 euro e poi un secondo intervento per arrivare ai 260.000 euro. Questo naturalmente per rendere tutto pedonalizzabile questa strada in sicurezza, perché c'era un lastricato in pietra e poi anche per dare un'immagine che sia legata al santuario, ma soprattutto attraverso l'architettonico, anche renderlo più gradevole con la natura circostante. Grazie ad un finanziamento della regione toscana, presto anche la Cappella delle Stimmate di San Francesco sarà accessibile ai disabili. Da lunedì abbiamo iniziato un altro nuovo cantiere, che stiamo facendo il camminamento sempre per disabili, che dal cancello si entra e si arriva fino dentro la Cappella delle Stimmate. Un importante progetto, abbiamo avuto 500.000 euro di contributo dalla regione toscana. Il fatto di qualificare questi luoghi, oggi con questo percorso così qualificato e aperto ai più fragili, domani, appunto, entro il 5 di gennaio, giustissima la scelta di Tellini e dei padri francescani di partire proprio in uno dei giorni che segna ciò che sarà il cammino nell'anno 2024 con quello che è il percorso interno, ci dà il senso di un rapporto straordinario.